Lo uccise io, ero geloso, quando le ho dato fuoco era ancora viva. Il fidanzato, 17 anni e un anno in più di Fabiana, è crollato dopo un interrogatorio di otto ore in cui aveva risposto con mille contraddizioni senza convincere fin dal primo momento gli inquirenti. Alla fine la confessione shock. La studentessa di Corigliano Calabro, un paesino sulla costa ionica in provincia di Cosenza, che fra pochi giorni avrebbe festeggiato il compleanno, è stata prima accoltellata e poi bruciata viva, a quanto pare per una follia, da un adolescente che da un po' di tempo la frequentava. Un rapporto difficile, come può essere quello fra due ragazze, fatto di conflitti e gelosie. Anche venerdì pomeriggio c'era stata una discussione. Subito dopo la scuola, i due si erano appartati in una stradina isolata, poco distante. Forse lei voleva chiudere quella relazione. Da qui la lite. In pochi istanti si è consumata la tragedia. In base al suo racconto, il ragazzo avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito Fabiana, molte volte. Si è liberato dell'arma, dello zaino e del cellulare della ragazza, che non sono stati ancora ritrovati. Poi si è allontanato per andare a prendere la benzina, con cui le avrebbe dato fuoco, mentre la giovane era ancora agonizzante. Ma si era procurato ustioni al volto, che lo hanno incastrato. Quella sera si è presentato all'ospedale di Corigliano, spiegando di essersi ferito, mentre armeggiava con il motorino, subito dopo aver accompagnato Fabiana a casa. Invece ai carabinieri, che nel frattempo avevano ricevuto la denuncia di scomparsa dei genitori, ha raccontato di aver subito un'aggressione. Messo alle strette ha fatto anche dei nomi, ma non è stato creduto. In caserma l'interrogatorio è durato quasi tutta la notte. Poi le ultime parole. Sono stato io, indicando il luogo dove era nascosto il corpo della ragazza. Fabiana è stata ritrovata in questo terreno, alla periferia di Corigliano, dopo una giornata di ricerche. Grazie a tutti.